Al vaglio le cause che hanno generato l'incendio al Burger King in Viale 20 Settembre. I vigili del fuoco stanno raccogliendo tutti quegli elementi che potrebbero essere inseriti in un fascicolo d'indagine, poi trasmetteranno la relazione all'autorità giudiziaria. È da accertare se ci sono responsabilità sulle cause che hanno generato il rogo. È stata controllata la tenuta strutturale della palazzina, quindi tra vie e pareti, la loro stabilità. Sarà da capire lo stato di manutenzione dei macchinari all'interno del locale e valutare eventuali errori umani che possano essere stati commessi. Dopo il lungo e difficoltoso intervento dell'altra notte per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco hanno anche verificato i livelli di monossido di carbonio di tutto l'edificio. Dopo averlo fatto evacuare, nessuna persona è risultata intossicata. I 50 ospiti della casa vacanze City Gallery Apartments, sia turisti in visita a Trieste che lavoratori stranieri delle ditte edili, sono stati ospitati all'hotel Sonia a Domio. Dopo la scintilla che ha generato le fiamme, il fumo nero e denso ha invaso il fast food e il fuoco si è propagato fino al tetto dell'edificio attraverso la canna fumaria. I danni sono ingenti e tutto il primo piano del residence è andato a fuoco, oltre alla porzione di tetto mangiata dalle fiamme. Ieri i 50 sfollati erano in fila davanti all'ingresso della palazzina per recuperare i propri bagagli prima di trasferirsi all'hotel Sonia. Da quel che sappiamo finora, il rogo sarebbe partito dalle frigitrici in quello che in una prima analisi sembrava un cortocircuito, ma ci vorrà ancora del tempo per stabilire con esattezza le cause dell'incendio.